Lancio lungo di Daniele per Tonetto, splendido il lancio di Danilino, palla per Tonetto, ma conosce davanti a lui, ancora Max Tonetto cerca lo spazio per effettuare, grosso la palla, va a tirare il tiro, go, 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 go! Caccia, 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 pheeo captured! Grrrred! Rodrigo Tatei! Il primo tiro nel tutto po', il Rodrigo mette alle spalle di Lupinno il grande cross da parte di Tonetto, lo splenito lancio da parte di De Rossi, per Max Tonetto il cross preciso, il doppio tiro, da parte di Rodrigo Taddei che segna il suo quinto gol in maglia giallo-rossa, raggiunge sia Giulie che per rotta a quota 5, Romain Vantaggio dopo 13 minuti di gioco col di Rodrigo Taddei, esattamente al tredicesimo minuto, un lancio splendido da parte di Danilo De Rossi per Max Tonetto, bravissimo anche lui.